È stato presentato il programma della 42esima edizione del Caffè della Versiliana, che dal prossimo 10 luglio fino al 5 settembre ospiterà tutti i principali protagonisti della scena politica e culturale italiana. Tra gli ospiti già confermati, solo per citarne alcuni, Michele Santoro, Carlo Cottarelli, Massimo Cacciari, Flavio Biratore, Vittorio Sgarbi, Piero Chiambretti, oltre al ministro Renato Brunetta e al sottosegretario di Stato Franco Gabrielli. Confermata tra i politici, la presenza dei leader di partito Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Enrico Letta, questi ultimi entrambi chiamati a presentare i propri libri, così come Walter Veltroni. Ospite d'onore per la giornata inaugurale di sabato 10 luglio, il presidente della regione toscana Eugenio Gianni. È una cosa ormai inventata da Romano Battaglia, copiata in tutta Italia, perché questo è stato il primo tour show in questo modo di pomeriggio, adesso è il più copiato tour show che c'è in Italia. Perciò noi siamo fieri di questo, vero? Perché vorrei dire che siamo i primi. Confermata anche per questa edizione la partnership con la nostra emittente, che manderà in onda l'incontro indifferita alle 23 e in replica alle 15 del giorno successivo.